ragazzi buongiorno eccoci ancora di nuovo dentro lo showroom di Jerry Pella Sprint a Gorgonzola via Trieste 105 abbiamo una bellissima Renault Kajar motorizzazione 1500 DCI modello Hypnotic questa è quella full 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 ragazzi 1500 DCI 109 cavalli giusto confermate siamo qua in tre uno due tre molto pigra molto pigra poi questa qua addirittura che ha il cambio automatico ragazzi quante Renault Kajar avete visto con il cambio automatico questa è una delle poche e non si muove e non si muove ragazzi è veramente pesante la macchina comunque macchina pesante fate il conto che monta il motore della Clio quindi montato su questo accendi l'aria condizionata cambio automatico le macchine di suono ma che è questa macchina no seriamente ragazzi il pedal sprint è montato in due minuti velocemente abbiamo fatto l'attivazione il pedal block perché all'epoca il pen non sappiamo se questo funziona comunque te l'ho attivato poi vediamo se va ragazzi tempo un secondo siamo fuori a fare il test drive a dopo ciao ragazzi eccoci a bordo del Renault Kajar super full full optional ragazzi questa è veramente full ne ho viste di Kajar ma non così allestite macchina realmente con 60.000 chilometri V5 DCI 109 cavalli per la sprint ovviamente montato è in azione adesso lo accendiamo e siamo così vediamo che arriviamo sul rettilineo esattamente adesso poi lo facciamo rallentare fa la rotonda andiamo a destra esatto andatura postante adesso lui non sta dicendo niente ma in comfort gliel'abbiamo messo esatto inizia a sentire una leggera leggerezza leggerezza della macchina esattamente ha perso qualche chilo adesso lo facciamo così in rotonda io lo spegniamo qua non abbiamo tasti sport della macchina no è proprio così da gli race poi quando torniamo indietro te lo metto in race alla rotonda ragazzi sei costante sei a filo gas e anche come cambia marcia come la senti già è più leggera ragazzi questo è la quella sprint ragazzi ovviamente non aumentiamo né cavalli né newton metri della macchina ma che rimane originale torniamo indietro via adesso guarda qua io lo spendo ho visto come qua quando quando ritorno originale siamo siamo uscia si è rotto qualcosa si è rotto e se rimani costante piaccia si sente lo scatto si il cliente è soddisfatto com'è la faccia effetto allora Roby tu ti trovi bene in race ti spegne il telefono te lo metti qua e corri e corri e tu non devi più toccarlo lui quando tutte le volte che accendi e spegne la macchina rimarrà sempre inserito e la cagia ha preso vita e la cagia ragazzi ma che parliamo fa c'è la differenza c'è la differenza torna pure indietro che ripacciamo una costanza a basso regime proprio c'è e lui lì che lavora il suo obiettivo è lavorare nei bassi regimi se no dopo se vogliamo farli negli altri gli facciamo una mappa e gli diamo cavalli in alto esatto stai sentendo emozioni no è un'altra macchina da guidare tutte così c'è l'aria condizionata accesa esco al clima acceso voi diciamo eh la madonna avete il clima acceso ragazzi con il clima acceso sta macchina si sente si questo assolutamente si pesantissimo si sente si sente si sente si ragazzi è la macchina ha bisogno dice le macchine ha bisogno del pedasprint tutte tutte ragazze perché tutti hanno quel lag quel vuoto nei bassi giri in accelerazione specialmente avendo poi il cambio automatico con l'incertezza nel cambio marcia tipo dentro questa rotonda che il cambio che fa che faccio se le chiamino in automatico le marce si anche perché si affogava si affogava ecco si affogava si e ora la cambiata è pulita esattamente le marce se le chiamano ragazzi ovviamente andiamo a migliorare anche i consumi eh non è che fai 10 km in più con un litro ma già uno o mezzo chilometri in più sul pieno si si sono quelli 56 km lo vedo alla ripartenza lo vedo ah ok quando ok 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 che tanto adesso tu devi partire per le ferie esatto e te lo godi in autostrada in autostrada è lì la figata tu come a filo gas a 130 e fai il sorpasso non te lo accorgi neanche è qua che è nel misto stretto che te lo accorgi esatto dove prima ci avevi vuote dovevi premere a tavoletta adesso non più io già mi rendo conto adesso se dovessi fermare è bravo prova a fermarti ok siamo fermi ragazzi beh assolutamente sì quel lag che ti dicevo prima del pedale è sparito quel vuoto all'inizio giusto che diciamo che è promosso promosso consiglia il signor robbie è soddisfatto il signor robbie è soddisfatto eh ragazzi allora soddisfatti o rimborsati e questo è soddisfatto quindi niente di non so allora robbie è venuto qua oggi per fare il test drive per la prova assolutamente sì ragazzi lo acquistiamo lo acquistiamo lo acquistiamo a giudicare conferma come fai a dire di no come fai una volta che glielo fai provare non lo smonti più dici di no solo se vuoi perdere tempo sì esatto bravo bravissimo a me non piace perdere tempo eh siamo uno due tre secondo me e poi siamo soddisfatti quando sei soddisfatto perché è che il prodotto adesso abbiamo dietro un amico che da quanti anni è che lo monti? beh cavolo saranno otto nove anni tutti i modelli li ho provati tutti i modelli li ho provati ragazzi lui è uno dei primi veramente quando era ancora a Melso non riesco a fare chissà dove Melso è un paese qua vicino l'abbiamo messo sulla croma l'abbiamo messo sulla 159 su un'altra croma ancora su una Giulia su una Giulia ma ragazzi impressionante sì 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 bravi funziona da dio io non ti sto dicendo niente ma ti vedo che sei stai scurtando la situazione ma non scendo la macchina esatto esatto ecco perché è bello ma ragazzi quando venite ve le faccio provare sulle vostre auto non sulla mia così la prova la fate sulla vostra e avete la sensazione e il brivido e l'effetto wow bene ragazzi siamo arrivati adesso ci parcheggiamo davanti allo showroom eccoci qua perfetto ragazzi mi trovate qua al 105 queste sono è l'entrata se non mi trovate sapete guardate il video pina e la pina allora no no riaccendila riaccendila ti faccio vedere un'altra cosa così rimane registrata nel video allora tu prenderai in mano il telefono ti vuoi mettere il pedal block l'antifurto ok vabbè apri si vabbè apri anche da lì devo mettergli l'icona dopo il ladro ti dover ruore più il telefono esatto lui si connette lui si connette esattamente ok è rimasto in race hai visto perfetto in alto a sinistra ok lui sta schiacciando il piede l'acceleratore scusate e la macchina non accenderà in questo caso Robby cosa farà spegnerà la macchina se ne va esce il cuore dall'apa si chiuderà la macchina usa il telefono normalmente rientra in macchina è uscito anche fuori dall'altra esatto perfetto va bene io riparto esattamente e lui ancora inserito ovviamente riapre l'app schiaccia perfetto ragazzi ho che dire di più ottimo Robby grazie grazie a te grazie mille per la fiducia ragazzi ottima scelta grazie a Jerry Pedalsprint grazie a te da dietro grande cliente grande amico numero uno e ragazzi mi trovate su youtube Jerry Pedalsprint e su instagram showroom pedalsprint ragazzi Reno Kajar sprintata alla prossima ciao ciao